Allora, volevo spiegare a tutti quelli che si sono un po' straniti e hanno commentato il fatto che io sia venuta in Romagna è perché sia io che mio figlio abbiamo la residenza qua, altrimenti non mi sarei mai permessa di infrangere le regole sono senza mascherina perché sto correndo e questa sera andrò al ristorante perché è giusto che i ristoranti locali riprendano le loro attività per tutte le persone, i dipendenti che ci lavorano, quindi andrò insieme alla mia famiglia e cerchiamo di dare una mano a questa fase 2 Ciao!